ragazzi lì c'è il professionista così si prende anche Daniela che si teneva ad essere ripresa questo è un vino questa è roba tua Edo è roba tua Edo me ne metti due anche a me Edo se c'è un piattino me ne metti due uno va benissimo è listo quest'anno quest'anno calcio e marte allora i nazionali scegliano subito siamo professionisti sono professionisti la terza è roba perché il papino è un bianco no il papino è standard voglio tre e la prossima volta se ci do voglio cinque no scusa Domenico ma è scappaletta vediamo anche la fotografia è scappaletta e l'ipotesi io vedo perché c'è bene prima che ho fatto tutto ma guarda l'ipotesi della serie A di partizio non pensare che io qua dove l'anno scorso quest'anno giochi no non è che giochi quello spiscio di Raffaele te li manco lì non è che giochi Ma se di nuovo lo può fare, lo devi fare di sei, non può fare. Anche perché bisogna, lui è disposto a fare la panchina ottonata, non giocare le mele finale. Ma comunque lui è disposto anche a giocare le mele. Poi si chiama a farciolo da giocare o no. Uno può essere stato in squadra. E' un video. Faccio il video. Però io anche ti devo dire la vita. Il mio sorso non è fermo. Grazie. E tu fai il video, eh? Mi ricordo di come seguire l'invita della sala, un'ottima che mi scissi, ma solo mi ricordi anche i modi. E qual è questo? Non lo so se lo ha già avuto. Be', no, non lo parmi scelto io, ho visto l'infesto... Prendi il tè, prendi il tè, uno dei due. 5, 5 minuti. 5, 5. Dammi un'altra volta. Sempre per la squadra nostra, eh? 5 a 9. 5. 5. Anche al secondo tiro si dico... Piano? Sì, insomma, fai te. A quanto vuoi l'italiano? 100 minuti? E tu tira piano? E se ti dicevo tira forte? Non per farmi il cazzo di te, ma se ti dicevo tira forte... 7.